Dal 31 marzo al 9 aprile, non lasciarti scappare le grandi offerte del supermercato Pama d'Avola. Risparmierai acquistando tantissimi prodotti. Cola Royal Crown da 1,5 litro a 50 centesimi. Omogenizzati Nipiol alla carne, 2 vasetti da 80 grammi a 1,45 euro. Omogenizzati Nipiol alla frutta, 2 vasetti da 80 grammi a 69 centesimi. Carta igienica Scottex, 10 rotoli a 1,99 euro. Yogurt Parmalat, 2 vasetti da 125 grammi a 56 centesimi. Pan cioccolato Casalini a 1 euro. Spuma di champagne a 30 dosi a 2,95 euro. E da noi troverai tante altre offerte con il 30, 40, 50% di sconto. Il supermercato Pama dispone di un ampio parcheggio e offre alla propria clientela una vasta scelta e prezzi immattibili. Nelle parti ortofrutta, maccelleria, salumeria e latticini. Ci trovate in contrada a Borcellusa, ad Avola, tutti i giorni, con un orario continuato dalle 8.30 alle 20.30. E domenica dalle 9 alle 13. Più Pama, più risparmio. Grazie. Grazie.